Rosarno Reggio Calabria, operazione anticrimine dei carabinieri, scoperti due bunker utilizzati dai latitanti di Andrangheta. Rosarno Reggio Calabria 20 giugno 2011. I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria nel corso di mirati servizi finalizzati al controllo del territorio ed alla localizzazione di rifugi utilizzati dai latitanti dell'Andrangheta hanno scoperto due bunker. Il primo a Rosarno, all'interno del garage di pertinenza dell'abitazione di Bellocco Gregorio, classe 55, pluripregiudicato in atto detenuto, ove una botola nel pavimento azionabile mediante servomeccanismo elettroidraulico ed occultata da un'ampia scaffalatura in legno consentiva l'accesso ad un locale occulto, ampio circa 15 metri quadri, dotato di impianto idraulico elettrico e di areazione. Il secondo bunker a Candidoni, in Contrada Draga, all'interno dell'abitazione rurale di Cacciola Teresa, classe 60, ove una botola ricavata alla base del caminetto consentiva di accedere ad un locale interrato della medesima impiezza dell'abitazione sovrastante, dotato di impianto idraulico, elettrico e di areazione. Le condizioni dei luoghi all'atto del rinvenimento e l'assenza di masserizie e suppellettili consentono di ritenere che due covi fossero inutilizzati. Il rinvenimento dei due nascondigli è avvenuto nel corso di un vasto servizio di controllo del territorio al quale hanno preso parte circa 70 carabinieri appartenenti alle compagnie di Gioia Tauro, Palmi e Taurianova, nonché allo squadrone riportato Cacciatori Calabria al reparto anticrimine e dal nucleo investigativo di Reggio Calabria. Nel corso della mattinata sono state inoltre perquisite numerose abitazioni di persone note alle croneche giudiziarie. Grazie. 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 Grazie.